Musica Nuova puntata di Cronache e Commenti. Il Consiglio regionale visto dalle telecamere di Teletruria attraverso quello che abbiamo raccolto in questa seduta, seduta di inizio aprile. Ricordiamo che la seduta si è svolta come ogni Consiglio regionale in due giornate, il 9 e il 10 aprile. Andiamo a vedere appunto quello che abbiamo raccolto con molti argomenti toccati. Andiamo a scoprire quali. Approvata con voto di maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 24-26 e incontrare le opposizioni, astenuti i 5 stelle. La regione garantirà la terapia ABBA per le persone affette da autismo in attesa delle linee guida nazionali. Il ricordo della Mobi Prince, un minuto di silenzio all'apertura del Consiglio regionale. Approvata con voto di maggioranza la prima variazione al bilancio di previsione 24-26. La manovra prevede uno stanziamento che per il 2024 è di oltre 21 milioni e 355 mila euro, per il 2025 di un milione di euro e per il 2026 di 189 mila euro. Sulla manovra hanno votato a favore PD e Italia Viva, contrari Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, mentre il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Siamo riusciti in questo bilancio a contenere quello che erano le spinte per una riduzione di servizi e per tagli e invece ecco che proprio andando a trarre le somme, voi sapete che il bilancio della sanità deve essere chiuso per il 30 aprile come ogni anno, noi riusciamo a far quadrare i conti e a dare alla sanità toscana invariata capacità di servizi, anzi di espansione in tutta una serie anche di interventi che riducono le liste d'attesa, che potenziano i pronti soccorsi e contemporaneamente a far quadrare quello che è l'equilibrio economico finanziario della regione. Ho avuto la possibilità anche di disporre di poco meno di 5 milioni di euro per far fronte ad alcune esigenze e quindi ripercorreremo quest'anno la strada di un contributo, si tratta di mezzo milione, 500 mila euro per le donne che sia per tumore o per altre cure molto difficili hanno la necessità della parrucca perché la loro calvizia per le cure che intraprendono non debba essere così evidente. In secondo luogo 2 milioni e mezzo per le indennità premiali per i pronti soccorsi che servono per motivare i medici a stare nei pronti soccorsi magari negli ospedali diciamo di aree più esterne della Toscana diffusa e poi quasi 800 mila euro per coprire tutte le domande delle famiglie che si trovano a avere situazioni di disabilità e che avevano presentato la domanda che non eravamo riusciti ad evadere nel contesto del 2023. È una variazione di bilancio che in realtà ripropone un tema ormai sollevato da tempo dalle opposizioni, una totale assenza di programmazione, uno sforzo finanziario come quello che è stato richiesto ai cittadini toscani con l'aumento dell'IRPEF che doveva servire a ricucire quello che era stato lo squilibrio del bilancio della sanità. In realtà oggi assistiamo nuovamente ad un bilancio che ci viene portato un'aula in fretta e furia con degli emendamenti che ci sono stati illustrati stamattina e che di fatto però nulla sposta rispetto al tema centrale che è quello della programmazione e della razionalizzazione della spesa sanitaria. La Lega vota contro questa prima variazione di bilancio che era stata inizialmente presentata come un mero accertamento dei conti e che invece ha visto ancora una volta arrivare in aula al di là delle dichiarazioni in Commissione di Gianni una serie di emendamenti. Al di là del merito occorre individuare sicuramente una mancanza di programmazione e a volte una difficoltà di interlocuzione corretta e con la opposizione. Faccio notare per esempio che ci sono 8 milioni per la cultura dei quali avevo chiesto scheda analitica ormai da due sedute di Commissione fa e che ancora praticamente non mi è arrivata. C'è uno storno per quanto riguarda i costi della sanità. Sappiamo che sono stati aumentati le tasse dei toscani addizionali per circa 200 milioni e 10 milioni erano stati destinati all'alluvione. 190 milioni invece erano stati destinati appunto per coprire i buchi della sanità. Di questi 190 milioni abbiamo visto che c'è stato un accertamento di 168 milioni quindi 22 milioni che si potranno spendere in modo differente. Di certo siamo in attesa del provvedimento della Corte Costituzionale per quanto riguarda i payback. Una data capestro quella delle 22 maggio ma per far sì che vi possa essere una gestione oculata della spesa ci vuole programmazione e ci vuole anche una visione nuova di modello socio sanitario perché noi siamo per una sanità pubblica ma siamo anche per una sanità efficiente e funzionale. La situazione economica di questa giunta e dei suoi bilanci è drammatica soprattutto sul versante della sanità e questa variazione sulla quale c'erano molte aspettative per superare delle difficoltà strutturali appunto della sanità ma non solo ha deluso. Ma la cosa più grave è che siamo arrivati di nuovo all'ultimo momento a presentare emendamenti anche molto importanti come la copertura di tutto il 2023 per le famiglie con migliori e con disabilità con un emendamento appunto presentato in aula nel momento stesso dal Presidente Gianni. Mentre invece si sono andate poi di nuovo a coprire tante altre voci di bilancio di cui probabilmente si può fare a meno che possono essere finanziati negli anni successivi come ad esempio il campo da golf del Casentino piuttosto che altre iniziative che appaiono essere molto più spot. Una variazione di bilancio non grande ma molto significativa con emendamenti che abbiamo fortemente richiesto anche come gruppo del Partito Democratico. Ne voglio citare alcuni. Pensiamo alle risorse che serviranno per incentivare i medici che lavorano nella medicina d'urgenza quindi nei nostri pronti soccorso oppure gli 800 mila euro che serviranno per completare le graduatorie per dare i contributi a tutte le famiglie che hanno fatto domanda nel 23 che ancora non erano state finanziate perché hanno presenza di familiari con handicap gravi oppure le risorse per pagare gli stipendi agli operai forestali o quelle per dare contributi ai comuni disagiati. E in ultimo quello per gli istituti storici della resistenza proprio quest'anno nei quali ricorrono gli 80 anni della resistenza in Toscana e credo che sia veramente importante dal punto di vista civile e valoriale ricordare quegli accadimenti e quei momenti che hanno dato vita alla nostra democrazia. Durante l'ultimo consiglio regionale si è parlato anche di autismo e di terapia legata ad esso. L'assessore Bezzini ha dichiarato che la Toscana garantirà in attesa delle linee guida nazionali l'erogazione della terapia ABA, una terapia che è un metodo che si è dimostrato efficace per ridurre i comportamenti disfunzionali e migliorare comunicazione e apprendimento di chi soffre di disturbi dello spettro autistico. È stato approvato all'unanimità dal consiglio regionale un mio atto di indirizzo affinché le persone che vivono nello spettro autistico possano continuare nelle loro terapie, in particolare la terapia ABA e quindi tutti i percorsi anche paralleli a questo. È un fatto anche di dignità perché nel 2023 erano stati negati rimborsi e questo atto fa sì che ci sia anche una uniformità all'interno delle tre asle perché non tutte funzionavano allo stesso modo in tema di rimborsi e quindi si potranno avere quei rimborsi alle famiglie che vivono questi percorsi con figli appunto che vivono nello spettro autistico di poter avere rimborsi. Abbiamo raggiunto un testo che ha trovato il consenso di tutto il consiglio regionale, un testo ragionevole che dice nella sostanza che date le complessità anche da valutare, tra l'altro l'assessore ha chiesto alcuni interventi anche da parte del Ministero, la Giunta faccia un atto che metta a sistema tutti gli interventi che riguardano l'autismo confrontandosi ovviamente anche con i livelli nazionali e nel frattempo si congeli sostanzialmente la situazione pregressa e quindi a quelle famiglie che usufruivano dei contributi per l'attività extra-lea previste dalle delibere del 2001 e del 2023 continuano a riceverlo fin quando la situazione non sarà chiarita. È un documento importante, è un documento di rionoscere dei diritti che le famiglie e soprattutto i ragazzi affetti dalla sindrome di autismo aspettavano. La questione per quello che riguarda per dire le risorse, per sanare perlomeno le richieste che erano state fatte nel 2023 dalle famiglie con handicap, soprattutto le famiglie di figli autistici. La questione del percorso ABA, percorso ABA che il 31 maggio verrà a concludere il tavolo voluto dal Ministro a Roma per capire se il percorso ABA è un percorso che dà dei frutti positivi. Possiamo dire che ieri in un'audizione il Governatore ci ha detto che tutte le persone che ha incontrato hanno detto che questo è. Ha dato anche una disposizione che dice che è là dove fino ad oggi sono stati riconosciuti questo tipo di servizio, si continua a farlo, là dove invece non è stato riconosciuto in assenza di una direttiva precisa da parte del Governo questo non avvenga. Il 31 maggio si chiarirà tutto, però questo documento che esce dal Consiglio regionale la consideriamo una vittoria perché sono mesi che noi ci spendiamo, in realtà io sono anni che mi spendo sull'autismo, sia per quello che riguarda la questione didattica, dobbiamo considerare che in Toscana mediamente ogni 120 bambini nasce un bambino a affetto ad autismo, fortunatamente le diagnosi sono sempre più precoci, questo mette in condizione questi ragazzi di essere seguiti subito dall'infanzia più tenera. È importante dare a loro però anche un percorso scolastico, cercando di fare il massimo della formazione, cosa che purtroppo ancora oggi non avviene per gli insegnanti d'appoggio, perché quasi tutti questi ragazzi, soprattutto quelli ad alta e media funzionalità, hanno capacità e specificità che se supportate e coltivate poi possono diventare risorse straordinarie. Il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per le vittime sul lavoro sul lago di Suvignana, al confine fra Toscana ed Emilia Romagna e per l'anniversario del disastro della Mobi Prince. Era infatti il 10 aprile 1991, quando il traghetto entrò in collisione nel porto di Livorno con la petroliera Agip Abruzzo. Dopo l'impatto si scatenò un incendio che devastò l'imbarcazione. Nello scontro morirono tutti i passeggeri a bordo, compreso l'equipaggio. Si salvò solo il mozzo Alessio Bertrand. Una tragedia per la quale non c'è ancora la parola fine. Innanzitutto bisogna non dimenticare, bisogna continuare a chiedere verità e giustizia per le 140 vittime. È incredibile come in un Paese civile come il nostro non si sia riuscito a dare ancora una risposta alle famiglie delle donne, degli uomini morti nel più grande disastro della marineria commerciale italiana. Da anni lo chiediamo a gran voce. A volte si vedono dei passi in avanti, poi si ferma bene la commissione che è ripartita, ma le famiglie hanno bisogno di risposte concrete. L'armadio della memoria che noi abbiamo portato avanti e che continuiamo a far crescere serve a non dimenticare, serve a dire che la Toscana non si volta dall'altra parte. Questo vale per quanto accaduto a Livorno, vale per quanto accaduto a Viareggio dove le prime sentenze sono arrivate, vale per quello che è accaduto per la Costa Concordia. Credo che noi abbiamo la responsabilità oggi di esserci, di essere lì, di essere al fianco delle famiglie e le vittime che ancora piangono i loro cari dopo 33 anni a cui non hanno avuto mai verità e giustizia che merita. La seduta si è aperta con un minuto di raccoglimento che ha unito la tragedia dell'Emilia a ricordo di quello che è accaduto nella rada del porto di Livorno. È una strage che ancora chiede e pretende verità e giustizia e il Consiglio regionale della Toscana ancora una volta ha ribadito il posizionamento, ovvero al fianco dei familiari delle vittime, fino a quando non sarà fatta piena luce su questa terribile vicenda. Io credo che questa sia una ferita grave non soltanto per Livorno, per la Toscana, ma per tutta l'Italia, perché l'attesa estenuante di questa verità e di questa giustizia che ancora oggi si negano fondamentalmente crea grande sfiducia anche in quelle istituzioni che dovrebbero darla a queste famiglie, per la memoria di queste persone. È necessario mantenere alta l'attenzione su questa tragedia. Dopo 33 anni ancora a buio, per la prima volta la Camera dei Deputati su iniziativa del Presidente Lorenzo Fontana ci sarà la commemorazione delle vittime e qui in Consiglio regionale la vicinanza alle famiglie delle vittime è stata manifestata nuovamente, però con grande senso di rammarico perché questa vicenda ancora non ha la verità e questo è un dolore che si associa a quello delle vittime e di estrema vicinanza che noi esprimiamo alle famiglie. È tutto da Cronache e Commenti, la trasmissione che racconta i temi, le tematiche e il dibattito del Consiglio regionale toscano. Noi ci vediamo la prossima puntata.